La regione Marche ha utilizzato 3 milioni e 600 mila euro per realizzare un nuovo ospedale di comunità a Monbaroccio. Io avevo detto sin da subito che era un errore perché bisognava recuperare la vecchia struttura ospedaliera, cioè il Briciotti, e con quelle risorse sarebbe stato possibile recuperare il Briciotti e attivare i 40 posti letto che oggi Monbaroccio ha. Avevo detto che con i 3 milioni e 600 mila euro non sarebbe stato possibile realizzare una nuova struttura che inizialmente aveva 30 posti letto, così è stato, oggi è stato confermato perché il bilancio che l'asta ha fatto è che con i 3 milioni e 600 mila euro sarà possibile realizzare solo 15 posti letto. Quindi il danno è duplice perché da una parte Monbaroccio che poteva avere recuperato il Briciotti con 40 posti letto, oggi si ritrova una struttura nuova con 15 posti letto e non 40. Dall'altra parte il Briciotti rimarrà sicuramente una struttura abbandonata che difficilmente sarà possibile recuperarla, ma soprattutto è un danno per tutto il territorio perché ricordo che l'ospedale di comunità è una struttura dove le persone, una volta che sono ricoverate, che magari non possono più stare in ospedale ma non sono neppure in grado di stare a casa, quelle che vengono chiamate cure intermedie si va negli ospedali di comunità. Nel nostro territorio, nel Pesarese, con un bacino di 150 mila abitanti, ci dovrebbero essere almeno 40, 50, ma a volte anche 60 posti letto, ci troveremmo solamente con 15 posti letto, proprio perché la regione ha deciso di fare l'ospedale di comunità a Monbaroccio, di trasformare l'attuale Galantara in casa di comunità e quindi i pesaresi nei prossimi anni, quando usciranno da una struttura ospedaliera, saranno costretti ad andare a Cagli, a Fossombrone o a Sasso Corvaro. Grazie. Grazie.